La data di oggi è davvero particolare per il calcio a Cava dei Tirreni. In parecchi tifosi metelliani, soprattutto i più datati, il 7 novembre del 1982 videro la Cavese vincere per 2-1 sul campo del Milan, dove l'11 campano non aveva i favori del pronostico. Quell'impresa sportiva, firmata dai gol di Costante Tivelli e Bartolomeo Di Michele, riguarda il campionato di Serie B 1982-83 e si è tramandata negli anni fino ai tifosi più giovani. Tivelli e Di Michele non erano solo le due punte, due tra gli elementi più rappresentativi di quella Cavese che a fine stagione sfiorò la Serie A, ma per tutti rimasero gli autori dei due gol che condannarono il Milan a San Siro. Di quella Cavese facevano parte anche Bitetto, che ha allenato la Cavese fino a maggio scorso, Pavone, che era il regista offensivo e oggi è il direttore sportivo, Paleari, che era un gran portiere e anche il compianto Angelo Cupini, scomparso un anno fa. In panchina, Santin, venuto a mancare nel dicembre 2017. Ma di quel Milan facevano parte niente meno che Tassotti, Evani e perfino Franco Baresi, tre vincenti, non tre qualsiasi. Divennero vice campioni del mondo con l'Italia nel 94, ma quell'impresa degli Aquilotti resta scolpita nella memoria di tanti. Il così minuto Davide poteva sconfiggere il gigantesco Golia. E anche la partita di sabato 10 novembre, quella tra la Cavese attuale e la Juve Stabia, appare difficile, ma non è impossibile per il bianco-blu fare risultato. Undici giorni fa la squadra di Giacomo Modica ha sconfitto il Trapani, che era diversi punti avanti ed è l'attuale capolista del girone C della Serie C. Il tecnico potrebbe star preparando qualche variante informazione, ma al di là di questo auspica il rientro a pieno ritmo dell'attaccante Giuseppe Fella. Chi invece non assicurerà la propria presenza al Simonetta Lamberti per la gara di sabato sera sono i tifosi organizzati della Cavese, i quali lasceranno vuota la curva sud per tutta la durata dell'incontro Cavese-Juve Stabia, in seguito alle restrizioni decise dal prefetto di Salerno e per solidarietà nei confronti dei tifosi di Castellammare che non possiedono la carta del tifoso, ai quali non è stata autorizzata la vendita dei tagliandi per la partita. Poteva essere una festa di sport nel ricordo di Catello Mari, stabiese e già capitano morale del club Aquilotto, ma saranno tanti i tifosi ospiti che non avranno la possibilità di intervenire. I tagliandi per il settore ospiti costano 8 euro e possono essere messi in vendita solo ai tifosi in possesso della Fidelity Card della Juve Stabia, come stabilito a inizio settimana dal Goss. Intanto il nuovo presidente della Lega Pro è Francesco Ghirelli, che ha riportato l'83% dei voti disponibili, quindi maggioranza assoluta tra i club di Serie C che avevano diritto al voto. La Cavese ha esteso i propri auguri al successore di Gabriele Gravina, a sua volta salito al vertice della FIGC.